Madonna censurata da Instagram? Ebbene sì! La 63enne pop star ha pubblicato sul suo canale social, seguito dalla bellezza di 17 milioni di follower, una foto che la ritrae distesa su un letto, vestita con delle calze a rete, un perizoma e lingerie mozzafiato. Immediata la reazione del social network che blocca subito la foto, una decisione per nulla apprezzata dalla pop star che ha ripubblicato gli scatti parlando di censura. Si può mostrare tutto, tuona, ma guai a far vedere un seno nella sua interezza. Madonna ringrazia anche Dio di essere ancora sana di mente dopo tutti questi anni passati a schivare attacchi, censure, cattiverie e polemiche che da sempre la coinvolgono, come quella sull'età, sul suo aspetto fisico o sui suoi amori giovanissimi. Per Madonna passano gli anni, ma non le polemiche, come quando con le sue canzoni scuoteva il moralismo i benpensanti degli anni Ottanta.